Il mattino di Puglia e Basilicata con le elezioni per il rinnovo della giunta regionale, ci sono più votanti che residenti, l'affluenza svogliata e seggi non raggiunge il 30% ma si vota pure fino alle 15 di oggi. E poi 95 miliardi di dollari per fare la guerra in arrivo dagli Stati Uniti, il partito democratico di Biden che compatta la Camera nel votare l'invio di 61 miliardi a Kiev, 14 a Israele e 20 a Taiwan per infiammare i conflitti con Russia e Cina e sostenere la strage a Gaza e Rafah, così dice il mattino.